Un caro benvenuto ragazzi e soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo contenuto, in questa nuovissima build targatti Alonso Gray Fox e benvenuti in quello che è molto atteso come, diciamo così, video perché parliamo di un vero e proprio game changer cioè Patrick Viera, una versione attesissima appunto da tanti ma che fondamentalmente mette un po' in dubbio per uno stile particolare che è appunto quello incontrista ne varrà la pena? Io vi dico già assolutamente non fatevi spaventare dallo stile perché di pena ne vale e come questa versione che state vedendo sostanzialmente è una versione dove abbiamo un ampio meccanismo anche di passaggi quindi bella completa, basilare, senza bonus e poi andremo a vedere anche la versione bonus ma vi anticipo già che la versione che sceglierò io è una versione che ha già dei buoni valori sui passaggi come potete vedere ma dove ci restano ben 12 punti per completare alcune cosettine che nella carta non sono propriamente perfette come per esempio il balance che è portato a 70 ha un senso decisamente completamente diverso anche sulla difesa diciamo che più o meno con i valori siamo a posto e per il contatto fisico a mio parere visto che uno dei boost è proprio sul contatto fisico in sé non toccherei nient'altro l'unica cosa che si potrebbe fare è aumentare un altro tantino la velocità per portarla quindi 80 a rendere il giocatore ancora più equilibrato a livello secondo me di salto banalmente potremmo anche esserci però potremmo dare visto che uno dei boost anche è sul controllo del corpo quindi altro non sarebbe che il balance potremmo dare altri due punti sulla accelerazione questo porterebbe sostanzialmente il controllo del corpo a 74 quasi un punticino diciamo così a distanza a quella famosa scala che dobbiamo avere altrimenti un'altra per avere proprio una differenza altrimenti una scelta diversa che si potrebbe fare quindi non considerare l'accelerazione accontentarci della semplice scala tra comportamento offensivo e balance di 70 e andare a spingere ulteriormente o sul dribbling oppure finire la finalizzazione certamente potremmo anche dare qualcosa in più sul contatto fisico e su difesa e questo ne potenzierebbe assolutissimamente le capacità difensive questo è poco ma sicuro però secondo me la scelta più lodica da fare a mio parere resta o scegliere sul dribbling o sull'accelerazione perché comunque i valori della carta considerato che è un incontrista e che quindi è un giocatore che tende ad uscire molto in pressing sono già buoni così sia difensivamente che a livello di contatto fisico dove il giocatore è devastante già semplicemente perché è 1,92 per 82 kg quindi la mia scelta finale sarebbe sull'accelerazione avremmo quindi un'accelerazione che andrebbe ad 85 col bonus e renderebbe la carta più completa guardate poi il risultato finale con i bonus assegnati un giocatore che è completo sotto tutti i punti di vista con un buon comportamento offensivo con ottime qualità di dribbling con un contatto fisico devastante una resistenza altrettanto sublime take el stupendo aggressività coinvolgimento difensivo tutto quello che li serve poi per quanto riguarda invece la carta di per sé e le abilità certamente io andrei ad aggiungere tutto quello che manca sui passaggi quindi per esempio passaggio di prima passaggio filtrante in questa situazione per quanto riguarda poi le altre abilità che potrebbero essere aggiunte si potrebbe andare banalmente a scegliere qualcosa sul dribbling io potrei aggiungere anche un doppio tocco nessuno se lo aspetterebbe su questo ovvierà così come una finta doppio passo tra l'altro aggiungerei anche probabilmente una un muro che le manca ecco il muro sicuramente la cosa da aggiungere principalmente poi si potrebbe anche aggiungere un dominio palle alte e un colpo di testa queste abilità sono buttate un po a caso per darvi la possibilità di scegliere quelle che preferite a seconda del giocatore che vorrete andare a strutturare se poi andiamo a fare un confronto con il viera big time vedremo effettivamente quale delle due carte semplicemente più forte se questo viera potrebbe essere in qualche modo superiore al viera big time scopriamola assieme come potrete notare i valori tra i due giocatori non sono poi così diversi se ci concentriamo vi chiedo scusa per questa forma di compare ma purtroppo i football hub non aveva la possibilità di confrontare fra le due carte con l'opzione vera e propria quindi dovete accontentarvi un po di questo siamo andati a dare comunque dei valori che sono più o meno simili tra le due carte proprio per andare a completarle la gran differenza tra i due viera è che questo incontrista è decisamente più tecnico da un punto di vista della capacità di poter portare la palla al piede vedete comunque un'accelerazione a 85 e un balance a 74 balance che qua resta a 70 mentre qui l'accelerazione è molto più bassa la velocità è più o meno sullo stessi valori perché la scala 80 viene assolutissimamente rispettata è un po più completo dal punto di vista del coinvolgimento difensivo ma da un punto di vista del teckel leggerissimamente superiore dell'aggressività pure a livello di dribbling siamo esattamente sugli stessi identici valori ma come passaggio è decisamente più completo questo il risultato finale questo viera secondo me nel complesso è decisamente più forte più completo rispetto al viera uscito qualche tempo fa e secondo me anche visto la capacità di portare meglio la palla dal piede pure se devo essere sincero più forte dal punto di vista del dribbling nonostante appunto i valori sul dribbling sono uguali quindi sì rispetto a prima c'è decisamente un upgrade quindi ragazzi come vi ho detto durante il video se volete approfittarne adesso per poter acchiappare il viera dei vostri sogni all'interno di questi pool di questo pool disumano che konami è andato a mettere corrette immediatamente sul mio link di instant gaming e accaperratevi tutte le card che ci sono perché tramite le monete scontate sullo store e tramite appunto gli sconti di instant potrete risparmiare un bel po e dare anche un grande supporto a questi contenuti è tutto per il video recensione di oggi e per la build più lunga del canale ma sicuramente durata meritata visto che vi era è uno se non il giocatore più incisivo e decisivo del gioco sui signori buona continuazione ed eventualmente buon shop su instant game